. Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 1 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Progetti sfumati per colpa del partner. Sottotiro di Nettuno nel segno opposto al vostro, per quanto interessanti e ben fondati, i vostri progetti finiscono in fumo. Parte della responsabilità tocca anche al partner, che invece di incoraggiarvi vi affossa, gettandovi addosso i suoi dubbi e le sue insicurezze. Per farcela malgrado tutto, cercate collaborazione, gli amici, ispirati dalla Luna, fanno del loro meglio, con consigli niente male da tenere presenti. Più fantasie che soluzioni concrete, ma è proprio nei momenti d'ozio che nascono le idee migliori, ecco il commento di Urano che vi scuote con un trigono, sollevandovi ad altezze inimmaginabili, dove tutto ciò che contemplate con lo sguardo d'aquila, vi appare per intero nelle giuste sequenze, passato, presente, futuro. Nella coppia sussiste solo un'attrazione fisica con povertà di sentimenti, lo scopo dello stare insieme è semplicemente fisico. L'amore che potrebbe nascere risente molto di tanta materialità ed è poco aperto ai sentimenti e all'amore vero. I single potrebbero vivere qualche esperienza con persone impegnate molto interessate solo alla loro fisicità senza nessun riguardo per l'amore. Disguidi al lavoro e malintesi, anche nel corso della giornata incontrerete qualche difficoltà nel concordare appuntamenti e consegne. Una giornata sicuramente poco tranquilla. Organizzerai il tuo tempo libero coinvolgendo parenti ed amici nelle tue iniziative. Cerca di non farti prendere dalla nostalgia per una storia ormai finita da tempo. Qualcuno vi pensa intensamente e sta cercando dei motivi validi per riavvicinarsi, in fondo dipende anche da voi. Se vi interessa davvero fate in modo da facilitare il riavvicinamento. Una discreta dose di fortuna assiste in nati di domenica e venerdì, piccole entrati di denaro potrebbero rendervi perlomeno più sereni. Possibili discussioni con il partner per decisioni prese d'impulso e senza riflettere. C'è confusione e indecisione. Un sagittario ti saprà consigliare per il meglio e sul da farsi. Se credete di aver perso in una questione che vi sta a cuore, sappiate che oggi Giove vi offrirà più di un'opportunità per ribaltare una situazione che ormai vi invitava ad arrendervi. Oggi particolarmente provate a prendere voi l'iniziativa, è l'unico modo per sbloccare una situazione che ormai non sembra avere via di uscita. Se siete timidi fate bene una ragione e prendete l'iniziativa con coraggio. Fatevi promotori di una riappacificazione importante tra due conoscenti, al momento opportuno vi saranno riconoscenti e potrete contare sul loro aiuto. Oggi i nati di lunedì potrebbero avere la certezza di una maternità. Mercurio oggi in buon aspetto farà maturare qualche chiarimento importante, ma non aggredite il vostro interlocutore, piuttosto cercate di capirne a fondo le sue ragioni. Non provocate deliberatamente il partner. Per una volta fate in modo di non dover essere voi a soddisfare i capricci degli altri. Una scelta azzardata potrebbe compromettere mesi di duro lavoro. Meglio che vi atteniate, sia in amore che nel lavoro, alla routine quotidiana, abbandonando il desiderio di novità. Dal toro, giove in ottimo aspetto conferma il periodo all'insegna del buon umore di dell'armonia familiare. Solo qualche piccolo intoppo potrebbero darvelo i figlioli, con mercurio negativo in sagittario, se ne avete e se vivono la fase delicata dell'adolescenza. Venerdì promettente per voi, che conclude felicemente novembre traghettandovi verso un dicembre pieno di promesse. A vostro favore l'amico Urano intrigono abbracciato a giove nel segno amico del toro e in buona amicizia anche con la luna cancerina in se stile sia a lui sia a voi. Sarà con gli amici che stasera farete progetti avveniristici riguardo alle vacanze di Natale, un viaggio all'estero o sulla neve. Amore ed Eros. Fiuto da Sherlock Holmes nel rapporto, se sul partner covate qualche dubbio, è in arrivo il momento della verità. Niente interrogatori da gestapo, i segreti vengono a galla spontaneamente, e alla luce dei fatti non potete che farvi una risata sui vostri sospetti. Urano, pianeta del realismo, transitando nel concreto segno del toro, vi aiuta a capire meglio quello che è il vostro destino in amore. Non vi preoccupate se qualche innamorato o innamorata potrebbe non essere proprio quel che voi avevate previsto, in particolar modo se festeggiate il compleanno dal 14 al 19 settembre. Nettuno è pur sempre il pianeta dell'adattabilità alle situazioni e, dal momento che transita in angolo sfavorevole al vostro segno, è possibile abbia un po' cambiato, per così dire, le carte in tavola. Guardate bene in voi stessi e fate luce in voi stessi, se è questa la persona che voi volete veramente accanto. Lavoro e denaro? Interlocutore difficile e non trasparente Come sembra, la conclusione dell'affare dipende dalla vostra perspicacia e dal sostegno dei colleghi, il vecchio volpone può giocarvi brutti scherzi. In ufficio Plutone vi consente di muovervi con la disinvoltura e serena sicurezza nei vostri mezzi, avete la chiara consapevolezza di essere giunti a un punto di svolta. Tutto questo in particolar modo se siete della terza decade. È sempre Plutone il vostro sponsor celeste, questo pianeta, simbolo astrologico della grinta e della creatività, è il responsabile di tante vostre conquiste attuali o di progetti da portare a termine nell'immediato futuro. Benessere. Sistema immunitario in allerta, se l'infonodi si ingrossano significa che c'è già battaglia, aiutatevi con la propoli e il tè alla rosa canina. Denaro. Siete un segno tra i più abili nel maneggio del denaro. Oggi, però una momentanea confusione può non darvi la giusta ducidità per seguire un progetto di investimento. Non vi date pensiero. Per lei, fitto scambio di dritte ricette tra amiche, anche sulla psicologia dei maschietti avete molto da raccontarvi. La vita vi ha rese maestre. Per lui, un sorriso malandrino è sempre l'arma vincente, sentirvi i protagonisti di un film vi aiuta a diventarlo. Colore delle emozioni, bianco panna. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 9, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.